Watt, spazio, fronte a Canetto, si prende la tricola, sbaglia, rimbazio di Pilekic, tutto solo, lui a chiamare la schema L per l'attacco per Torino, Cavallo, spazio, penetra, trova, magicamente, c'è l'aspettato, Gava, Watt, casce l'arco, l'ultimo tocco con il piede, è il DJ, e la MSR è quasi un'attacco che è rispettato. Eh sì, ben, teniamo per tenere la mano. Quella red of cover di Cancun, 8-11, Troppo fatto. Questa è la quinta, 15, Tex, Virtus, Polona. Quest'anno, vuota la maglia della vasta leggenda serta, Watt, spazio, penetra, prende la steppata di Watt, sembra la seconda steppata. Eh sì, c'era Watt. Questa è Jackson, apre, per Cic, va in perlentazione, dietro, schiena per Watt. Il rinancio sinistra, segno. Un punto di rinancio. Giazzosa, ancora il pallone per Giuri. Watt, va a rollare, ecco, ha lanzato. Invece Watt, sesto punto. Si è mosso. Watt, vale altissima a bloccare JJ. Watt, si scarica per il campo. La vigna di fondo. Questa ha fatto prima di Tartan, forse ce l'ha fatto. Io ho bisogno adeguarsi. Versoso, prova, ancora. Guarda, 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 guarda. Votter, vede, il tempo di Watt, il tempo di Watt, vede, il tempo di Watt. Watt, prova a folleggiare. Watt, taglia tutto il pitturato, poi esce dall'altra parte. stoppato nel tirato a punti, forzatura. No, no, non registratelo perché non è. molto bene tra l'altro. molto più tre per Watt. Molto più tre per Watt. Uno dentro per Watt. Senta anche nell'uno di spunto su. Jonathan Johnson e il giro per Watt. Watt, vale l'ultimo. Quattro gioco in fila. Via di da 9. Quattro giuri. Buoni per Cinciarini. Poi, il passo di Watt, il passo dal retro, si alza con la mano mancina. questo è un grande resto. Il playback è importante. La giustizia la parei anche per il ragazzino perché ha fatto la principale di Laval. non è una cosa fascista, anche se Sosa tante volte si autonica da solo. Quello. Watt intanto mette lo primo. Quindicesimo punto. Sette lying. Giornata il secondo per ... Bellicioso. Per la biancavillio per Watt c'è ancora Watt. Il riep Mentor alza e segna. Oncio. Per Watt. Forza Sosa forza. Altra parte della Sosa. Per attaccare. Scani per Watt. Questo significa aver sotto due castagne.